Va ora in onda al culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata da Luca Prola. Care sorelle e fratelli all'ascolto, oggi vi invito a raccoglierci alla presenza del Signore ascoltando i primi sei versetti del Salmo 105. Oggi il salmista ci invita a lodare Dio, a sperare nella sua vicinanza, a credere che la sua vicinanza non verrà mai meno. Celebrate il Signore e invocate il suo nome. Fate conoscere i Suoi prodigi tra i popoli. Cantate e salmeggiate a Lui. Meditate su tutte le sue meraviglie. Esultate per il suo santo nome. Gioisca il cuore di quanti cercano il Signore. Cercate il Signore e la sua forza. Cercate sempre il suo volto. Ricordatevi dei prodigi fatti da Lui, dei Suoi miracoli e dei giudizi della Sua bocca. Voi figli di Abramo, suo servo, discendenza di Giacobbe, suoi eletti. Preghiamo. Lode a te, Dio eterno, cui nessuno assomiglia, che non smetti di rivelare il tuo progetto di amore per gli uomini. Dal nulla dell'argilla ci tiri fuori, Dio di vita. Dalle catene della paura e di ogni schiavitù ci liberi, Dio di libertà. Fuori dal tumulto dei nostri desideri ci culli, Dio di pace. Nelle tenebre dei nostri dubbi ci illumini, Dio di verità. Nel naufragio delle nostre illusioni sei la nostra rocca, Dio di salvezza. Nel labirinto delle nostre incomprensioni ci guidi, Dio di comunione. Nel deserto dell'indifferenza ci parli, Dio di amore. Lode a te, Dio al quale nessuno è simile. Lode a te, Dio altro, che hai scelto di diventare Dio vicino in Gesù Cristo. Amen. Lode all'Altissimo, lode al Signore della Cosa. Nelle dei secoli noi celebramo la vittoria. O su cantiamo e tutti insieme giubiliamo, in terra e in cielo adoriamo. Lode all'altissimo re del mio mezzo creato, sovra di Nati la salvi noi tutti apportato. Vene sostiene, poiché ad ognuno conviene, di camminare col suo aiuto. Lode all'altissimo re della grazia infinita. Tutto è di donarci, forza, benessere e vita. Lode all'altissimo re del mio mezzo creato, sovra di Nati la salvi noi tutti apportato. Cari fratelli e care sorelle all'ascolto, oggi vorrei leggere e commentare insieme a voi il bellissimo passo biblico del pruno ardente e della chiamata di Mosè che si trova nel libro dell'Esodo al capitolo 3, versetti 1-15. Mosè pascolava il greggio dietro suo suocero, sacerdote di Madian, e guidando il greggio oltre il deserto, giunse alla montagna di Dio, a Oreb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco, in mezzo a un pruno. Mosè guardò, ed ecco il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. Mosè disse, ora voglio andare da quella parte a vedere questa grande visione e come mai il pruno non si consuma. Il Signore vide che egli si era messo per andare a vedere. Allora Dio lo chiamò in mezzo al pruno e disse, Mosè, Mosè, ed egli rispose, eccomi. Dio disse, non ti avvicinare qua, togli i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo sacro. Poi aggiunse, io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Mosè allora si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. Il Signore disse, ho visto, ho visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto e ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori. Infatti conosco i suoi affanni. Sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese, in un paese buono e prezioso, in un paese nel quale scorre il latte e il miele, nel luogo dove sono i Cananei, gli Ittiti, gli Amorei, i Ferezzei, gli Ivei e i Gebusei. Ed ora ecco le grida dei figli di Israele sono giunte a me e ho anche visto l'oppressione con cui gli egiziani li fanno soffrire. Or dunque, va, io ti mando dal Faraone perché tu faccia uscire dall'Egitto il mio popolo, i figli di Israele. Mosè disse a Dio, chi sono io per andare dal Faraone e far uscire dall'Egitto i figli di Israele? E Dio disse, va, perché io sarò con te. Questo sarà il segno che sono io che ti mando. Quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, voi servirete Dio su questo monte. Mosè disse a Dio, ecco, quando sarò andato dai figli di Israele, avrò detto loro, il Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi. Se essi dicono qual è il suo nome, che cosa risponderò loro? Dio disse a Mosè, io sono colui che sono. Poi disse, dirai così ai figli di Israele. L'io sono mi ha mandato da voi. Dio disse ancora a Mosè, dirai così ai figli di Israele. Il Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe mi ha mandato da voi. Tale è il mio nome in eterno. Così sarò invocato di generazione in generazione. Il Signore benedica la lettura della sua parola. Cari fratelli e care sorelle, questo è uno dei pezzi più conosciuti del Libro dell'Esodo. Almeno una volta lo abbiamo letto, ascoltato o rappresentato in una recita della scuola domenicale. Avere la sensazione di conoscere così bene un testo forse ce lo fa sottovalutare. Spero davvero che questo sermone possa essere un'occasione per rifletterci su. Il passo che abbiamo letto cerca di rispondere a tre domande fondamentali. Chi è Dio? Che cosa fa per noi? E che cosa possiamo fare noi per Lui? E allora cominciamo il nostro viaggio dalla prima domanda. Chi è Dio? Un pruno ardente che non si consuma è la prima risposta che ci dà il testo. Dio è un fuoco che ci attira a sé senza consumarsi. Dio ci attira a sé quando, come Mosè, andiamo a curiosare. Perché ci ama e non può, non vuole stare solo. Ma facciamo attenzione. Stare con Dio non significa essere al pari suo, diventare come Lui. Il nostro Dio è un Dio vicino, che però ai suoi spazi ci tiene, rivendicando le sue prerogative. Dio è padre e madre e come tale, per un buon percorso educativo, è bene che non sia amico dei propri figli. Così neanche Mosè, e dico Mosè, può avvicinarsi troppo. Questo rapporto con Dio fatto di vicinanza e distanza, forse dovremmo riscoprirlo. In questo tempo, dove tutto si consegna a domicilio, è il prima possibile. Forse reimparare che il rapporto con Dio non è tutto dovuto, ci potrebbe essere utile. Con Dio tutto è dono. Infatti, in questo episodio, non è Mosè a chiedere aiuto, ma è Dio stesso che si palesa. Dunque, per il popolo di Israele, Dio stesso è dono. E come tutti i doni, anche Dio dovrebbe avere un nome. È così importante che le cose abbiano un nome, che anche Mosè chiede a Dio quale sia il suo. Quale sia il nome di questo Dio dono? E la risposta non tarda ad arrivare, ma non è quella che ci si aspetta. Il nome che questo Dio dice di avere è un nome impronunciabile. Ma che senso ha un nome che non si può pronunciare? Questo Dio è proprio strano, però. Ha un nome che non si può pronunciare e non deve essere invocato per intervenire. Direi che è l'esatto contrario di un Dio normale, di un Dio di quelli che avevano gli altri popoli, uno di quelli che hanno un nome da invocare e che necessitano di esserlo per esaudire le richieste del proprio popolo. Il Dio di Israele è proprio questo, un Dio che non si fa comprare. È un Dio che è vicino al suo popolo. In questo testo dice di aver sentito le grida della sofferenza di Israele e dell'Egitto. Ma resta libero, anche dalla gabbia del suo nome. In realtà il Dio dei padri, di Abramo, Isacco e Giacobbe, un nome ce l'ha. Io sono ciò che è, era e sarà. Quello che a volte viene tradotto come l'Eterno. Ma questo, ammettetelo, non semplifica le cose. Per noi esseri mortali, la parola Eternità non ha molto senso. Riusciamo solo ad immaginarci questo fenomeno come un susseguirsi di giorni che prosegue senza soluzione di continuità. Ma per Dio l'Eternità non è soltanto questo. Per Lui l'Eternità fa parte della sua essenza. Non è solo un susseguirsi di tempo. E questo, noi come Mosè, non sappiamo esattamente cosa significhi. Sia come sia, questo Dio si presenta e si palesa. E si palesa come un fuoco che attira l'attenzione. Vorrei vedere se non attirerebbe il nostro sguardo un cespuglio che non brucia. Ma questo fuoco non è affatto un effetto speciale. Non è un modo per vendersi meglio, per apparire il migliore degli dèi. Dio viene per ricordare al popolo Israele che non è solo, che anche se schiavo in Egitto, l'Eterno non si è dimenticato di Lui. Anzi, Dio ricorda a Mosè che il popolo che ha scelto non l'ha mai abbandonato, perché Lui è già stato il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. Adonai, il Dio che ci viene presentato qui, è un Dio vicino, che si precipita a liberare il popolo che ora è schiavo in Egitto. Come diceva qualcuno, ora la domanda sorge spontanea. A che cosa serve oggi parlare di schiavitù e di Egitto? Noi non siamo più né schiavi né esuli. Oggi siamo liberi, libere, non solo di andare dove vogliamo, ma anche di fare ciò che vogliamo. E quindi un Dio che libera non ci serve più. A noi serve un Dio che faccia ciò che desideriamo, che ci faccia felici. Noi non abbiamo bisogno di libertà, ma di tranquillità. Forse riflettendoci bene, la questione non è così semplice. Vale la pena di ricordare un bel pensiero sul senso del libro dell'Esodo. Per Dio è stato più facile liberare Israele dall'Egitto che l'Egitto da Israele. Così è anche per noi. Anche se formalmente siamo liberi e libere, dentro di noi questo senso di schiavitù rimane. È quel senso di oppressione che ci stringe lo stomaco, che non ci lascia dormire. Dio si fa avanti per liberarci. La questione è se gli permettiamo di farlo, o se ci comportiamo come il lamentoso popolo di Israele durante il lunghissimo cammino verso la terra promessa. Ma visto che uno dei nostri preferiti è si stava meglio quando si stava peggio, temo che la seconda ipotesi sia più probabile. L'invito che ci viene fatto in questo testo allora è quello di fidarsi di Dio, di lasciarsi guidare dalle sue promesse. Ma questo fidarsi al quale siamo chiamati e invitate non è una passiva accettazione. Come Mosè ci viene chiesto di testimoniare la grazia che abbiamo incontrato, il Dio vicino, e quando come Mosè non ci sentiamo all'altezza, Dio ci invita a non preoccuparci, a fidarci di nuovo e sempre di Dio. Se ci mettiamo all'ascolto di questo testo con attenzione, riusciamo a scorgervi un bel ritratto del nostro Dio, del Dio di Gesù Cristo, del Dio di Israele, che può essere davvero utile per la nostra vita. Il nostro Dio ha un nome impronunciabile, non per vanità, ma per non essere imprigionato in un'immagine. Il nostro Dio è un Dio che ci libera dalle angosce, dalla prigionia della nostra paura e dall'esilio della nostra insicurezza. Il nostro Dio è un Dio che ci invita alle relazioni con Lui attraverso la preghiera, come quella del popolo disperato schiavo in Egitto. E tra di noi attraverso la testimonianza, come quella alla quale è invitato Mosè. Da oggi sappiamo che Adonai odia la solitudine. Con questa certezza, chissà se anche noi riusciamo a sentirci meno soli e sole. Amen. Amore Etermonia, sopravito, Mare che mi ha udito l'anno mio lamento, Per il mio sospetto, Mare che mi ha udito l'anno mio lamento, Tutti i miei giorni, Loro al Signore. Mare che mi ha udito l'anno mio lamento, Vina cosciosa, Maginale stretta, Mare che mi ha udito l'anno mio lamento, 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 O Dio, accogli le nostre preghiere che timidamente ti rivolgiamo con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, Sia santificato il tuo nome, Venga il tuo regno, Sia fatta la tua volontà, Come in cielo o anche in terra, Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, Come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, E non esporci alla tentazione, Ma liberaci dal male. Tu hai il regno, la potenza, la gloria, Nei secoli dei secoli. Amen. Aiutaci Signora affinché le parole dette, le preghiere fatte, Siano come è stato con Mosè, Testimonianza della tua vicinanza e della tua volontà di guidarci nella terra promessa. Dunque con la certezza del perdono e della vicinanza di Dio, Come ci insegna Gesù, Andate per tutto il mondo, Predicate il Vangelo ad ogni creatura. Con questo impegno scolpito nei nostri cuori, Ci benedica il Dio della libertà, Della pace e della giustizia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona domenica e buona settimana. Avete ascoltato il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è stata curata da Luca Prola.